La finisci di cazzeggiare col telefono? Questa cosa... Io questa cosa me la sognerò la notte, lo sai? C'è un mio amico che oggi fa il compleanno Porca puttana L'agenda è cattiva Gianfra, tanti auguri, sappi che stai rientrando in un nostro video L'ho appena fatto vedere quell'immagine brutta La gente è cattiva, madonna E' vero? E' un'immagine orribile Non lo girare No no, un mostro ha fatto una cosa brutta da un procione Salve a tutti ragazzi, scusateci Non dovevi iniziare così, ma è stato come un fulmine al ciel sereno Come un cazzo in bocca di fuori Stavo dicendo la stessa cosa Ma la mia mente l'ha evitato Invece no Tu no, tu senza filtri proprio Io sono la voce della verità Da me non avrete mai un'autocensura Soprattutto se c'è da evitare Mi stavo... La mia testa va... Come un... Censura Non lo so cosa stavo dicendo No! Va bene ragazzi Buongiorno Torniamo eh Buon venerdì Buon venerdì Torniamo seri Allora... Padova Immediatamente Padova State già riempiendo il teatro Quindi noi vi ringraziamo L'abbiamo detto due volte Una su Facebook Una da ste parti Siete arrivati in massa Quindi grazie ragazzi Speriamo che lo spettacolo vi piaccia Sì Ovviamente è il 7 maggio Quindi è domenica Quindi il link in descrizione Ci sono ancora alcuni posti Sbrigatevi perché possono finire Abbastanza in fretta Quanto è bello dire questa cosa Invece c'è una cosa che è ancora disponibile Cioè alcuni premi Alcune reward Sul nostro crowdfunding per YouTube Money 3 Stiamo lentamente raggiungendo la cifra che ci serve Ma manca ancora molto per arrivare al traguardo Quindi ragazzi il vostro aiuto è sempre più che apprezzato E speriamo di farcela tutti insieme E l'ultima cosa ancora su Padova Il giorno prima di live facciamo il corso Il corso su YouTube Quindi ragazzi Ragazzi Veniteci a trovare Se siete interessati alla cosa Ci sono ancora dei posti liberi Ma molti si chiederanno Ragazzi ma dove trovate il tempo Per preparare uno spettacolo Per fare questo corso Per pensare ai YouTube Money Per fare i video su YouTube Patto col diavolo È facilissimo Tu vendi la tua anima quando hai 17 anni E poi sei fottuto per tutta la vita Ma se non altro nessuno ti molesta Come molestano alcuni procioni Giusto? Ma che diavolo vuole farci quello? PlayStation 4 Secondo i tecnici Alcuni guasti Sono dovuti agli scarrafoni Boh dicono che Horizon Zero Dawn gira male Perché ci sono gli scarafaggi Il noto sito videoludico Kotaku Ha recentemente pubblicato L'avevo letta sta notizia Siccome io ho la PlayStation 4 in camera da letto Cioè la mia ragazza che sono un attimo irrigidita Non è che stanno gli scarrafoni pure là Però non si sa Ha recentemente pubblicato una ricerca effettuata In collaborazione con alcuni tecnici americani Riguardo ad alcuni guasti della PlayStation 4 I tecnici hanno affermato di aver riparato Parecchie console guaste o malfunzionanti Semplicemente aprendo la console E rimuovendo degli scarafaggi presenti all'interno Morti Questo non lo dice Potrebbero avergli fatto una respirazione bocca a bocca Per vedere se avevano ancora qualcosa da vivere Ma gli scarafaggi hanno una vita biologica molto breve Addirittura un tecnico xCubicle Un negozio videoludico di Manhattan ha dichiarato che ogni settimana Un gran numero di clienti chiede di riparare la propria PlayStation 4 E quasi la totalità di esse è piena di scarrafoni Che il povero tecnico deve eliminare in laboratorio Per la modica cifra di 25$ La risposta al perché di questa orribile vicenda La dà direttamente la scienza I scarafaggi adorano i luoghi caldi e bui Quindi cosa c'è di meglio di una bella console? In particolare la PlayStation 4 Pare risulti particolarmente gradita Grazie alle prese d'aria Poste in un luogo accessibile E abbastanza grande Da permettere agli animaletti di entrare al suo interno Avete una PlayStation 4 e avete paura degli insetti? Buttatela Giovanni Erestia a cagioare C'è una cosa che è diversa però C'è da spiegare Gli scarafaggi presenti in America Sono totalmente diversi e differenti Da quelli presenti da noi Sì Cioè parliamo di una grandezza Di 3 cm credo massima Negli scarafaggi Adesso non sono un esperto di scarafaggi Parli della blatta classica La blatta classica Che siamo abituati a vedere qua Mentre la blatta presente in America Arriva a queste dimensioni qua Cioè è tipo una gallina C'è questa storia di quest'uomo Che una mattina si è svegliato Pronto ad indossare le sue scarpe di pelle In realtà è andato in giro tutto il giorno Con i piedi infilati dentro due scarrapponi Mi stavo aspettando quando arrivasse la stronzata Cioè è di buono che l'uomo a un certo punto Si è reso conto dell'inghippo Ha smesso di camminare Camminavano loro Sembrava che fosse sui rollerblade Vabbè comunque Comunque è vero Cioè Lì mi preoccuperei Perché veramente gli scarraffoni sono queste dimensioni qua Cioè arrivano a 8 cm In una cosa così E li ho visti Li ho visti a A qualche Ragazzi si chiamano Quelle parti dove fanno vedere In un vicolo? No No C'era una specie di vivaio Dove facevano riprodurre le farfalle a Milano E c'erano pure questi Questi enormi cosi Che se le tiravano mentre le farfalle si riproducevano Porno per insetti Ma posso continuare? Guardate che è difficile Cioè Sono le 9.33 di venerdì mattina Ha già visto una cosa Ho già visto una cosa tremenda che mi ha segnato tutto il giorno Niente videogiochi prima degli esami Preparare gli esami senza distrazione Per rendere lo possibile la scuola inglese King Solomon Academy Ha pensato in accordo con i genitori di confiscare tutte le consonne e le abitazioni degli studenti Per dare loro un esito migliore durante gli esami Quindi le vene sono partite direttamente a queste povere persone che non possono nemmeno godere di antistress Secondo le testimonianze del presidente i ragazzi sarebbero arrivati a lezioni in più di un'occasione stanchi per le notti insonni passate su videogame e internet Non c'è da sorprendersi se l'unico tempo libero che i ragazzi possono trovare sia la tarda notte Visto che sono impegnati nelle azioni dalle 8 alla mattina fino alle 4 del pomeriggio Dopo di che si vedono davanti due ore per poter fare i compiti e se questi non vengono conclusi i genitori vengono avvisati Insomma scaricare la colpa sui videogiochi è ormai un cliché ma essi sono un passatempo Una passione e molto spesso anche un mezzo per potersi distrarre da tutto ciò che ci circonda e schiacciare il tasto pausa dalla realtà E queste cose poetiche Molto poetiche Esattamente come succede con un libro o un film Toglierci tutto ma non i nostri videogiochi Andrea Bertorello H The White Rabbit che è nuovo per questo ci aveva pure la vena poetica oggi Il coniglio bianco complimenti perché sei un gran poeta Allora questa è una notizia che fa riflettere tanto E come giustamente lui dice Adesso io ho insegnato anche in una scuola elementare Ho avuto a che fare con ragazzini molto molto piccoli E con i loro, essendo un istituto comprensivo, anche con i loro compagni delle scuole medie Parlando con questi ragazzini mi sono reso conto che avevano molti più impegni di me durante la giornata Cioè veramente facevano scuola, uscivano da scuola compiti, poi dovevano andare a karate, a danza, a quello che è Tornavano a casa la sera, mangiavano evidentemente, velocemente perché poi dovevano ripassare delle cose per il giornato E poi andavano a dormire Cioè dimmi tu quando gioca un ragazzino se c'è una giornata piena come quella di un businessman E' vero Poi oh, a me sembra un po' esagerata questa accademia che dalle 8 del mattino fino alle 4 del pomeriggio Ti mette là e ti chiava in bocca dei compiti Perché alla fine oh, siamo parlati 8, 4, quindi sono 9, 10, 11, 12 Si fermeranno un'ora, 13, 14 si fermano, 15, 16 Sono 7 ore indicativamente Orario d'ufficio quasi Orario d'ufficio Se tu poi alla fine ci devi veramente appoggiare almeno 2-3 ore per studiare perché quello ci vuole al giorno più o meno un paio d'orette Sono 10-11 ore in una giornata che ne ha 12 Come cazzo ti permetti di trattare così la vita di un ragazzo che non riesce ad investire la sua mentalità, quello che apprende, l'intelligenza in attività diverse dallo studio stesso? Mettici che ste povere persone devono fare un po' di sport, devono uscire magari a fare una passeggiata che cazzo Si devono fare, cioè non è possibile che trovi una bella scarafaggia in mezzo alla strada, non la vuoi un bel procione, che ne sai? Vabbè, studi sulla dannosità dei videogiochi ritirati dalla pubblicazione Tan tan tan, ci volevo E qua vengono smentite le puttanate Durante la vita di un videogiocatore medio, egli passerà buona parte del tempo ad ascoltare come, secondo anche autorevoli studi scientifici, i videogiochi siano dannosi alla salute e che portano un'inclinazione alla violenza E' questo l'argomento trattato dalle ricerche pubblicate nel 2012 dello psicologo americano Brad J. Bushman Che durante, uomo cespuglio si chiama questo, Bushman Che durante una sua analisi Meglio di Dickman Meglio di Dickman sicuramente Che durante una sua analisi è riuscito a collegare la bravura nei videogames Che prevedono l'uso di armi con l'abilità di utilizzare le stesse armi nella vita vera Ci trovo nulla di strano Lo vedi fare tante volte Vabbè, comunque si Secondo Bushman in breve Se sei bravo cecchino nei videogiochi Non avresti problemi ad imbracciare un bel fucile, mirare alla testa del vicino di casa e premere il grilletto Chiaro Certo, certo Peccato però che lo psicologo Patrick Markey sia riuscito a trovare delle analisi di Bushman Alcune inconsistenze e addirittura alcune manomissioni di dati Come conseguenza lo stesso Bushman, dopo un'indagine dell'università statale dell'Ohio E una conseguente denuncia per cattiva condotta Si è trovato costretto a ritirare il suo articolo dalla pubblicazione Mostrando però la determinazione nel voler dimostrare quanto i videogiochi siano dannosi Ce lo vogliamo immaginare così Pugno alzato verso il cielo Giurando vendetta verso il nostro eroe Riuscirà il perfido dottor Bushman a completare il suo piano malvagio? Le scoperte del prossimo DLC Andrea Castagliola H. Sam Poole Allora Chiacchieriamo un po' su sta cosa perché tanto torna sempre, no? Punto numero uno Potrebbe esserci un fondo di verità Nel senso che Se tu hai provato Nel senso che ci stanno dei casi in cui i bambini di 8 anni prendono la macchina Vanno al McDonald's Almeno questa è una notizia Potrebbe essere una bufala perché ne girano tante Però Penso che la fonte fosse abbastanza attendibile Se un bambino di 8 anni in America Va a prendere un panino al McDonald's Perché aveva imparato a guidare su un gioco Poi al simulatore Sembra una cazzata Potrebbe essere una cazzata Ma non si discosta troppo dalla realtà Soprattutto perché in America c'è il cambio automatico Si, alla fine metti il piede sull'acceleratore Quella va da sola Cioè se a casa sto ragazzino c'ha uno sterzo E dei pedali Non cambia niente Cioè è la stessa identica cosa Quindi se guidi nel videogame, guidi nella realtà Quanto alle tattiche di guerriglia Se tu giochi a Battlefield con i tuoi amici È chiaro che hai una certa inclinazione a coprire uno spot Piuttosto che ad aggirare il nemico Sono tattiche di guerriglia che adotti anche nella vita vera Non a caso c'era un gioco Che adesso non ricordo come si chiamava American Army, America's Army Una cosa del genere Proving Grounds Proving Grounds Esatto Che era un gioco realizzato in collaborazione con l'esercito degli Stati Uniti Per studiare alcune tattiche Cioè esiste questa cosa Ma non per questo Cioè non per questo uno imbraccia il fucile E va a sparare la testa del vicino Puoi avere delle nozioni in più Ci sono giochi molto simulativi di armi Che ti dicono tutto Dalla gestione del cane Da come si arma Ai proiettili Le ottiche Le canne I spinelli Tutte quelle cose Però Da lì hai imbracciare il fucile E sparare Perché poi fisicamente hai un contraccolpo Hai anche la gravità E hai tutte quelle situazioni che Si, si possono prevedere in un videogioco Ma nella vita reale cambia un po' tutto Perché vai a sparare con un calibro 5 Vai a sparare con un bar Poi vedi la spalla dove ti arriva Soprattutto io non vedo perché questa cosa dei videogiochi violenti debba essere una cosa negativa Visto e considerato che ci sono anche videogiochi in cui non esiste violenza Anzi c'è un discorso molto positivo dietro il gameplay A questo punto quelli sono videogame che ti trasformano in un buon samaritano Cioè mi ricordo c'era un gioco che si chiamava Rescue Mission dove dovevi salvare delle persone Che stavano in territorio di guerra dovevi portarle via con l'elicottero Ora quello è un gioco che ti trasforma in un eroe a questo punto Immagino che Bushman non sia d'accordo su questa cosa Ma sul trasformarti in un cecchino sia perennemente convinto di questo Va bene ragazzi, diteci anche voi cosa ne pensate Perché serve anche a questo, no? Chiacchierare, commentare, è sempre bello sentire la vostra E se sentite strani comori nella vostra PlayStation 4 Occhio agli scarafaggi